La conferma? Dopo i tuoi 1.500 e anche questi 800 che ti piacciono sempre di più? Sì, sì, gli 800 mi piacciono tantissimo, anche più dei 1.500. No, molto bene, comunque me lo aspettavo di andare bene, di fare un tempo comunque vicino al mio personale, quindi 8.20 in questo momento va benissimo. E poi soprattutto contro la Capas, sia ieri sia oggi, è comunque una rivale accreditata perché ovviamente si pensa a Glasgow. Sì, è una rivale valida e anche se l'ho battuta in questi giorni però so che è comunque molto forte e ha dei personali più bassi dei miei, quindi comunque a Glasgow sarà una delle avversarie principali. Quindi adesso che cosa succede dalla fine dei sette colli prima di Glasgow, la preparazione di Simona qual è? È nuotare, 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 basta, comunque continua la preparazione, manca soltanto un mese che sembra tanto ma in realtà è pochissimo, quindi ci prepareremo.